Andiamo a mangiare in un ristorante di sushi che è un po' il nostro posto così di corrente del cuore e io sono entrato e ho fatto salve salve e un ragazzo mi ha fatto maestro la stavamo aspettando e il rene mi ha fatto non ho capito Bella raga nuovo appuntamento nuovo Passa dal Basement ci siamo un nuovo amico che ci viene a trovare sono davvero felice intanto ciao io sono Gianluca Gazzoli se vi va ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale così non vi perdete proprio nulla se ci state ascoltando su Spotify perché so che ovviamente molti ci ascoltano su più piattaforme continuate a farlo non fermatevi perché il bello inizia adesso siete pronti attenzione Alessandro Borghi è passato dal Basement troppo 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 contento grazie davvero grazie di cuore tra l'altro sono molto contento perché ti vedo proprio nel tuo splendore perché ho detto chissà se quando becchi un attore come te che fa tanti film in cui a volte cambia forma magari ti becchi in un momento in cui che ne so magari sei coi capelli lunghi o con una cresta strana qua sei te o sei in mezzo a qualcosa? sono io un po' più biondo però perché vengo da poco finito di girare la serie è quello che mi rimane però sì è un momento bello abbastanza rilassato prima guardavo questa foto qui dietro ho detto questo per ricordarci perché lavoriamo sì per andare lì per andare lì a riposare perché tu in realtà di per sé hai dei tempi morti che sono sempre quelli nella tua stagione ma sai è diciamo che il covid ha molto cambiato la percezione di questa roba qua a un certo punto almeno io pensavo di poter arrivare a un momento in cui sarei stato in grado di gestire il tempo in una certa maniera lì c'è stata tutta una compressione strana che conosciamo tutti quanti molto bene io ho una confusione una confusione spazio temporale abbastanza importante per quel periodo è come se quello fosse stato in qualche modo un po' un anno zero da un punto di vista organizzativo del tempo cioè stavamo per arrivare stavo per arrivare al momento in cui ho detto ok da adesso posso gestirmi meglio le cose quello invece ha incasinato tutto e quindi i tempi morti in realtà non ci sono perché anche quando provo a convincermi tipo dico ma adesso mi prendo sette mesi di stop poi in realtà in mezzo ci sono le promozioni delle cose che hai fatto prima la preparazione delle cose che farai però è anche bello perché poi alla fine no credo proprio di sì tanto vogliamo sempre quello che non abbiamo no non so come vivi esatto io nel mio mi sono reso conto che alla fine la vacanza intesa come vacanza è un'utopia cioè quando dici voglio andare voglio staccare poi invece quel momento in cui stacchi almeno io poi magari ho dei problemi sento di aver voglia di fare delle altre cose quindi c'è sempre una pulsione inversa rispetto a quello che pensavi sarebbe stata la soluzione davvero però è bello così cioè almeno almeno per me è molto bello perché poi mi godo tanto tutte le cose che succedono mi godo tanto il momento di vacanza mi godo tanto di ritornare perché poi ripenso a quando andrò in vacanza ma grazie davvero anche perché insomma ci tenevo tanto oltre a essere un artista che stimo anche una persona c'eravamo incrociati l'ultima volta il concerto di di mauri di salmo in quel di quel di san siro dove insomma tu sei un grande appassionato di a parte che sei un amico di di mauri di salmo che qui ha speso delle parole bellissime per davvero davvero quando è nato il vostro rapporto vostra amicizia cara la verità è che ogni volta che ce lo chiediamo non riusciamo mai a individuare vero cioè non me lo ricordo il giorno che mi hanno presentato maurizio e di solito quando è così è perché mi sembra di conoscerci da sempre però diciamo che secondo me ci siamo riconosciuti quando poi lui mi ha chiesto di fare il video di lunedì sì cioè in quell'esperienza abbiamo capito che avevamo una visione comune del del lavoro della passione applicata al lavoro e poi mauri insomma tu lo conosci e oltre ad essere un talento straordinario in quello che fa anche tutta una tasia di talenti che non sa di avere non è conscio e quindi quando parla di cinema ne parla in una certa maniera quando parla di musica ne parla una certa maniera quando parla di sport ne parla una certa maniera e insomma è un fratello quando vengo a Milano personalmente per me sono tanti puntini che si allineano proprio perché l'anteprima di quel video l'avevo presentata io al cinema con Salmo e tu non c'eri in quel giorno però c'era il video che avevate girato che era stata una cosa molto figa quindi è bello vedere come a volte si ricongiungono le le cose poi insomma sono anni che stai facendo tante cose tante cose belle e sono belli progetti che decidi di sposare a volte sorprendenti se non sbaglio adesso la puntata andrà andrà un po più in là rispetto a quando abbiamo registrato però ieri hai fatto una piccola anteprima del tuo del tuo ultimo lavoro insomma che uscirà il 23 di marzo perché sui social stanno già girando le foto dell'età della tavolata successiva perché c'è questa tavolata discretamente pesante dove eravate sempre lì al cinema siete andati poi a bere una cosa ci siamo abbiamo fatto questa proiezione con poche persone appunto perché ti parlavo prima del fatto che a volte organizzare delle anteprime ufficiali è complicato anche da un punto di vista di inviti poi mi hanno detto che qui a Lodiano a Milano c'era questa saletta piccola e ho detto ok allora proviamo a capire chi c'è e sono riuscito a mettere su questo gruppo di amici che hanno visto il film e poi ci siamo spostati in albergo da me faccio un piccolo recap la tavolata eravate tu salmo valentino rossi marra e la 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 scena rap al completo italiana bello devo dire che vabbè marra la da salmo siamo amici sono persone che stimo profondamente ma ci vogliamo anche molto bene e ci eravamo già visti ci vediamo ogni volta che c'è la possibilità valentino era la prima volta che ci vedevamo di persona ieri cioè ci sentivamo sempre sui social c'eravamo scritti vediamoci proviamo a vederci e mauri ma io ho detto guarda che balle sta a milano magari riusciamo a beccarlo e anche per maurizio era la prima volta che si vedevano di persona è stato un incontro incredibile perché non so guarda c'è una percezione strana ne parlavo prima che sono stato ovviamente per una serie di fattori seduto a tavola anche con grandissimi attori americani italiani però c'è una curiosità c'è una grande stima ma c'è una cosa che rimane umana con gli sportivi mi succede una cosa stranissima forse perché i ricordi che c'ho per esempio ieri valentino mi ha detto lui ha fatto 26 moto mondiali cioè 26 moto mondiali vuol dire capito io i ricordi che c'ho di me mio padre mio cugino seduti sul divano a vedere quella roba era di un me bambino sì e quel ricordo perché sono nostalgico di base ogni cosa che mi riporta al passato per me è un momento da acchiappare sì mi piace molto e mi ricordo questa roba che quando vedevo quando visto vale ieri e l'ho reso umano ci ho parlato ci siamo abbracciati anche con lui bellissimo perché è stato come se ci conoscessimo da un sacco di tempo abbiamo condiviso dei ricordi delle cose che ho fatto delle domande io del suo di mondo lui del mio in quello scambio ti ritrovo moltissime cose in comune con lo spirito di chi come noi cerca di buttarsi in una cosa che non è certa perché poi sai anche tu quando hai iniziato a fare questa roba che non sapevi dove sarebbe finita infatti sono felice per te perché ti ho detto nell'ultimo mese ho incontrato tutte persone sono andato al basement va è bello questo è bello spero sia insomma sono tutte persone giuste in qualche modo dal mio punto di vista cioè in qualche modo ci si sceglie anche quando si fa questo tipo di lavoro come magari tu scegli dei progetti delle persone con cui con cui lavori la cosa di valentino che dice è verissima perché appunto essendo venuto anche lui qui sono riduce da qualche giorno in realtà perché era proprio qualche giorno fa e ha fatto ha fatto molto effetto ha fatto molto effetto perché come dici tu io poi mi sto rendendo conto in particolare che le più grandi soddisfazioni che che mi stanno tornando indietro in questo periodo non derivano da cose diciamo effimere ma da tante cose legate al mio passato quindi tu dice io sono un nostalgico mi hanno paperizzato su topolino e per me quella è la cosa più grossa che potesse succedere nella mia vita perché si collega comunque in qualche modo l'infanzia sta roba è bella cioè tu comunque hai intrapreso un percorso che si che si ricollega credo con i tuoi sogni da bambino anche ma sai è la verità che fino a 18 anni non avevo idea che un giorno mi sarei sentito a mio agio davanti alla macchina da presa perché facevo tutt'altro avevo mi piace molto mi piace molto il pugilato questo sì quando mi allenavo avevo un'idea di provare a cominciare a combattere seriamente studiavo economia e commercio cioè facevo una cosa in cui questa roba non era con te proprio contemplata avevo fatto un po di moda quando ero un po più piccolo ma e poi per una serie di casualità io ho conosciuto quello che ancora oggi il mio agente che è stata una persona grazie alla quale tutta questa roba è iniziata poi che a danilo è come un fratello per me sono tanti anni che siamo insieme che mi ha fermato e mi ha detto prova a fare questa roba era un allora un provino per distretto di polizia era il 2006 sono andato a fare questa roba vergognandomi come un non mai cioè proprio convinto di essere assolutamente in grado di fare quella roba lì l'ho fatta mi hanno preso a fare queste tre pose quindi tre giorni di lavoro e da lì ho capito che che quella cosa mi riusciva non in termini di qualità del lavoro ma in termini di emotivi cioè mi mi appagava era una cosa che mi riusciva abbastanza semplice seguire un flusso cioè io che sono sempre stato di base una persona timida quindi questo è anzi proprio lì la la definizione giusta così rena mio compagno sono un timido estroverso quindi è un che esiste questa questa nuova formula esatto e quindi è sono arrivato lì e quando mi hanno detto ok vai azione è successo qualcosa e quel qualcosa poi negli anni è stato un po il fulcro della mia scoperta nei confronti del lavoro ma anche di me stesso e so pure maurito ha detto una psicanalisi gratis è la verità perché poi sei talmente tanto costretto ad avere a che fare con te stesso che non è che ti puoi nascondere troppo è cioè quando il lavoro che fai è soltanto in show off cioè nella dimostrazione agli altri tu puoi anche trovare il modo di barare perché poi può essere un grandissimo professionista ma una persona qualunque una persona anche mediocre se vuoi qua devi farti le domande cioè di farti le domande e fare i conti e cercare ogni giorno di aggiustare delle cose di te che non ti piacciono che non funzionano di un processo che arriva fino alla morte quello cioè non credo che arriverà un momento in cui dirò perfetto sono diventato la persona che sarei voluto essere è tutto work in progress perché tu poi nelle tue nel tuo lavoro studi anche gli altri uniti porti anche i disagi o le avventure di altre persone dentro beh sì però poi tutta questa cosa ci tengo a dirlo questo perché noi abbiamo anche io avevo un un'idea legata a questo mestiere che era molto simile a quella che ci avevano propinato gli americani per molti anni no quindi daniel de lewis che fa games of new york e dorme per due settimane sul set mangiando da una scodella di terracotta o perfetto stupendo dice mazza però guarda che roba che fa ed è fichissimo dall'altra parte in italia c'è un'altra dimensione mi trovo spesso a parlare con i miei colleghi di questo no del fatto che comunque gli americani in realtà ci invidiano per il fatto che noi siamo in grado di stare sul set e poi il pomeriggio invece da fare una cena in famiglia o andava posta vanno a fa spesa perché quella roba è una essere multi tasking emotivamente ci consente di non rendere quella cosa assoluta cioè di non fare a diventare che io sto facendo un film quindi nessuno mi può dire nulla nessuno può interferire con questo processo è una roba che magari ma non è possibile ma non è possibile per me almeno non lo è magari c'è qualche mio collega che ci riesce però ecco è poi applicare la bellezza di questo lavoro e cercare di ricercare dentro di una profondità per cercare di farlo nel miglior modo possibile sempre in termini emotivi di sensazione quindi essere felici facendolo divertirsi facendolo e poi avere tutta una vita fuori che è una vita che ha bisogno di noi i nostri amici hanno bisogno di noi la mia compagna ha bisogno di me la mia famiglia non ti puoi dire ci soffrendo tre mesi e mi e mi sgancio puoi anche farlo però poi probabilmente ne pagheresti le conseguenze no cioè io credo credo molto nelle persone degli esseri umani nei rapporti tra gli esseri umani e credo che sia molto importante coltivarli in una certa maniera e quindi questo mi porta ad amare moltissimo i personaggi che vado ad interpretare ma poi ad essere abbastanza sicuro di doverli poi abbandonare non soltanto alla fine del processo anche quando mi danno lo stop e anche quando dando la fine lavorazione del giorno poi ci sono dei momenti in cui per esempio per delta abbiamo costruito un po una bolla nella quale siamo rimasti per un mese e mezzo sul delta del po però dovuta mi viene da dire a causa di forza maggiore cioè nel senso che era una situazione praticamente subito subito dopo il covid abbiamo girato ferrara comacchio e che però era un cittadino fantasma non c'era nessuno e allora quando si crea quella situazione dove tu sei fuori casa però poi finito il set non hai nient'altro da fare l'unica cosa che può fare continuare a rimanere sul set e si crea una bolla interessante ed è molto interessante perché ovviamente quella cosa viene amplificata sì sì si nutre da sola in maniera esponenziale quindi quando arrivi a un punto in cui tu pensi di non star pensare al personaggio invece che il personaggio sta ancora lì i pensieri che fai sono legati a quella roba la cosa cresce e poi sul set succedono delle cose non ci riesci sempre io almeno non ci riesco sempre beh è particolare credo che poi una situazione tipo anche per per delta sia anche forse poi necessaria a volte per per essere di più ancora lì dentro sì diciamo che ecco appunto a volte succede perché cioè ti faccio un esempio pratico sarebbe molto difficile per me pensare di costruire una bolla davvero ermetica facendo un film a roma perché hai appunti cioè a che fare con la routine invece quando puoi andare fuori per esempio successe anche quando feci il primo re con matteo rovere no è ancora adesso il film più faticoso che ho fatto e senza dubbio fisicamente è stata una roba incredibile però si stava fuori siamo stati 12 settimane in mezzo ai boschi e a un certo punto diventa quella la tua casa cioè c'è una una trasfigurazione dell'idea che hai tu della tua vita e cominci a cambiare il luogo di riferimento le persone che vedi tutte le mattine quando ti svegli e questa roba agisce tanto sulla sulla mia vita essendo appunto uno innamorato delle persone che le persone piacciono cioè riescono a piacermi in una maniera incredibile e riesco ad odiarle incredibilmente a volte in contemporanea si esatto poi anzi no l'odio in realtà è una cosa che mi appartiene tanto riesco a non capirlo ok riesco a trovarle incomprensibili a volte sotto diversi punti di vista e prima come parlavo dei social prima alcune cose che vedo sui social che esistono ci sono fanno parte della nostra vita il 70 per cento delle cose che vedo sono cose che mi mettono in imbarazzo ci crede ti cringiano dicevamo prima ti cringiano cioè l'altro giorno ti dico questa cosa meno male che non mi ricordo il nome almeno una pubblicità negativa ma ho visto un format di allora c'era questo format che facevano in america di questo ragazzo che andava in giro a chiedere alle persone con delle belle macchie ok lo fanno un sacco di persone l'altro giorno ho visto che siamo riusciti a fare la copia peggiore di quel format ho visto un tizio che va da delle persone palesemente alle quali ha detto prima che li intervisterà e questo è praticamente nel corso di questa intervista che dura 30 secondi fanno 10 spot di gente che probabilmente gli darà i soldi per dire il loro nome cioè che è una roba di un non riesco che poi è palese nel senso allora quella cosa o sei uno che lo fa di professione o sei un attore quindi non fai una figuraccia se lo fai veramente una figuraccia cioè tipo che lui fa ciao questa è la tua macchina la mia dici la tua perché sono questi cinque secondi fa e già lo sapete e quindi quella roba mi mette un po imbarazzo è che a volte alcune cose partono genuinamente oppure purtroppo c'è questo problema in italia che tantissimi copiano i format strani come hai detto tu è esattamente la stessa cosa solo che oggi ormai c'è ti sgamano subito ma poi sai copiare va anche bene perché come dico sempre quando ci dicono sai che cosa questo film che gli altri film non hanno di guarda è già stato fatto tutto quindi la cosa intelligente che possiamo fare è copiare con intelligenza e questa è la verità e credo si faccia nel cinema della musica in tutto però e c'è un limite oltre il quale non bisogna arrivare rispetto a una contaminazione che sfocia nel nella nell'imbarazzo cioè ci sono delle cose che mi metto in imbarazzo quello che farà dire ma che mi frega e c'hai ragione no beh però è un punto di vista che che devo proprio sento di dover raccontare rispetto a una cosa cioè io vorrei usare meno il telefono non ci riesco tantissimo perché poi ecco per esempio adesso sto in promozione è un continuo di cose da ripostare però diventa anche fondamentale è fondamentale no e quindi ti imbatti in quella roba c'è la mia home di instagram è un posto dove vedo cose che mi metto in imbarazzo e a certo punto ma perché mi devo mettere in imbarazzo e quindi no però c'è vedrai che ci sono tante persone che si ritrovano tranquillamente nel tuo col tuo punto di vista non è neanche un discorso anagrafico secondo me non è un discorso di di gusto di cose che ti piacciono fortunatamente c'è anche un po di tutto il modo in cui tu usi social a me piace io in particolare avevo visto una cosa che avevi fatto forse era un anno fa non mi ricordo avevi pubblicato una foto poi a me queste cose piacciono perché mi caricano mi ispirano avevi pubblicato la foto di un non so se era un mall a los angeles dove tu andavi col tuo man dove eri andato la prima volta col tuo manager e se eri tornato lì dopo un festival forse in realtà non era col mio manager con una persona su cui ero su cui ero stato con luca marinelli ok quando andammo a los angeles per promuovere non essere cattivo per gli oscar c'è una roba ragazzi quello lì hai scritto un po di righe a me piace leggere quando c'è dietro una storia così così forte e mi è arrivata tutta quella roba lì sì è stata una cosa molto emozionante devo dire che ci sono delle cose che che mi emozionano molto rispetto alle persone che mi sono state regalate durante questo viaggio che fondamentalmente insomma appunto dura da tanto ma faccio come piace a me da sette anni fondamentalmente poi prima stavo facendo un'altra chiacchierata e dicevo che io michele vannucci regista del film ci siamo conosciuti dieci anni fa per il suo corto del centro sperimentale perché lui mi chiese di fare questo corto facendo un provino e poi cominciamo a prominare tutti gli altri attori in un posto dove io facevo il sorvegliante di notte cioè io facevo il sorvegliante in questo palazzo sfitto e noi poi facevamo queste persone in questo posto assurdo che quando entrano facevano ma che cos'è questo posto dicono non ti preoccupano fa domande e io che avevo divisa da sorvegliate e facevamo questi provini a queste persone per fare questo e adesso stiamo qui a parlare con te con altra gente del film vedere gente in sala cioè c'è un processo che ha a che fare con i sogni che è bellissimo ed è emozionante è molto bello vedere che si può riuscire a fare qualcosa a prescindere da tutto anche quando ci sono molte difficoltà anche logistiche no anche quando ci sono dei momenti in cui pensi che non ci riuscirai mai cioè io sette anni fa mai avrei creduto di poter avere da questo mestiere quello che poi mi è stato regalato in termini di tutto termini economici perché esistono in termini di conoscenza in termini di persone appunto che ho incontrato durante il percorso che adesso cioè se io penso a quello che se uno mi dovesse dire come descriveresti la tua il tuo percorso artistico come ti senti come attore non riesco mai a pensare a me rispetto a quella roba penso sempre agli altri ma non lo dico in una cosa tipo buonista cioè il mio pensiero rispetto a quello che ho imparato è sempre rispetto alle persone che me l'hanno insegnato anche senza saperlo quindi è se tu mi dici perché pensi questa roba dico perché una volta ho incontrato uno in quella situazione è successa questa roba qua perché una volta sono andato lì e ho visto una persona che ha fatto questa cosa qui ed è perché c'ho una curiosità morbosa nei confronti degli altri nei confronti delle storie degli altri ed è forse questo il motivo per il quale poi mi piace così tanto sguazzo così tanto l'idea di poter raccontare delle storie usando lo strumento che mi piace di più perché prima di essere un attore sono stato e sono ancora un grandissimo spettatore sono uno che guarda tanta roba e se se ne sorprende e si emoziona e si arrabbia e insomma i film hanno al potere di cambiare le giornate prima poi siamo andati avanti sul discorso quello del modo di malibu cioè cos'è che è successo lì ma è successo esattamente che appunto noi eravamo andati a promuovere il film per gli oscar e io e luca eravamo veramente due ragazzini cioè che eravamo stati messi in questo contesto americano del sogno hollywoodiano quindi stavamo la ce facciamo foto ovunque e in particolare su quel pontile c'era stato anche c'era quel giorno anche valerio mastandrea e diciamo c'è un ricordo che è una roba pure qui valerio quando lo sentirà si arrabbierà perché lui non vuole che racconti queste cose che non tenere in realtà sì esatto valerio è veramente un posto di infratello perché è troppo vecchio però che a un certo punto quando poi tutto il cerchio di non essere cattivo si è chiuso ci hanno mandato una foto a me e a luca che era una foto di me e luca abbracciati su quel pontile che tipo ci avevano messo addosso delle sciarpe da donna una cosa stavamo cazzeggiando e sotto questa foto c'era scritto qualunque cosa accadrà voi rimarrete sempre i miei ragazzi che bello e quindi c'ho insomma è una roba che il ricordo di quella dimensione lì perché valerio è uno che ci ha preso per mano e ci ha portato per tutto il film e ci diceva sempre questa cosa è voi farete delle cose bellissime nella vostra vita ma niente sarà come non essere cattivo poi ho capito che cosa intendesse lui nel senso che la dimensione di quel film era una dimensione fatta di cose piccolissime di gente che si era trovata e non gli interessava niente di fare i numeri dal cielo loro l'hanno soltanto raccontata storia di quest'uomo che era stato un outsider per 30 anni che è morto in povertà ed è stato uno dei più grandi autori che Italia sarebbe mai potuto immaginare e che semplicemente non è stato guardato e quindi c'era uno spirito in quella roba lì e quello che abbiamo vissuto noi con quel film che si conclude con questa con questa foto era legato al fatto che noi avevamo trovato valerio valerio aveva trovato noi e a un certo punto valerio un giorno mi disse che ho visto ma è tornata la voglia delle città però questo dovrebbe essere lo spirito di tutte le cose cioè le generazioni passate che lasciano il loro sapere cioè lasciano insomma condividono il loro sapere prendono l'energia invece da quelli più giovani beh io insomma se dove si fa un augurio auguro a tutti i ragazzi che vogliono fare gli attori di incontrare un valerio mastandrea sulla loro strada perché è tipo la stella cometa da seguire su un sacco di cose soprattutto per l'onestà e il rigore e la serietà con cui fa il suo lavoro con cui ha fatto il suo lavoro con cui continuerà a farlo probabilmente sta roba è sta roba è fighissima è bello tu prima usato il termine regalare che capisco ne capisco ovviamente il senso però ci hai dovuto dare dentro di brutto per ottenere questa 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 cosa no uno dei miei miti è lebron james ecco vedi questa frase simbolo che me la so l'unica frase che mi sono tatuato sono solo co oggetti europe che io ne not given cioè guadagnato non dato e tante volte è così perché te le sei dovute sudare sì è vero è verissimo forse diciamo parlando ritornando al discorso di prima parlando di ambito sportivo è più semplice cosa dare la parola guadagnare perché la so c'è ad una incredibile io dico sempre se non avessi fatto la torre sarei voluto essere un atleta professionista di qualunque sport perché mia passione il sacrificio è la scelta che c'è dietro di rinunciare a delle cose per arrivare ad un obiettivo una cosa incredibile c'è anche per noi c'è anche per te c'è per tutti quelli che cercano appunto di rincorrere un obiettivo che è molto lontano da quello che avrebbe creduto però la verità che tu fai un percorso almeno io ho fatto un percorso senza aspettarmi niente di particolare da questo percorso perché sono uno e più passa il tempo più diventa così che ha poco interesse nei confronti del futuro mi interessa tanto il futuro mi interessa molto l'adesso mi interessa più quello che è stato forse perché in qualche modo è quello che poi mi ha fatto diventare quello che sta nel presente però la verità è che poi a un certo punto succedono delle cose anche nei momenti più impensabili come succede spesso e perché si allineano delle cose perché come ben sappiamo io ho un amore sconsiderato per il talento in generale nella sua essenza non c'è se vedo uno per strada sono al flauto bene mi fermo e bazzisco e quella roba mi mi ancora mi sorprende mi stupisce però quel talento non basta ce lo sappiamo è una cosa stupida quindi servono un sacco di cose una volta quando io ho iniziato c'era tutta questa leggenda delle raccomandazioni quindi asia non si raccomanda per fortuna io adesso non ne vedo più tante o meglio quelli che sono raccomandati però poi invece succede che incontri una persona giusta sei in un momento giusto della tua vita in grado il momento in cui sei in grado di poter capire l'entità di questa cosa che ti si sta presentando e io ricordo mi sono lamentato tanto a un certo punto per dieci anni ho fatto della televisione brutta che mi serviva più che altro per cercare di guadagnare dei soldi per potermi permettere poi di studiare alla scuola di recitazione e era era più un sopravvivere che cercare di arrivare a qualcosa e tu pensavi che quelle cose lì ti avrebbero portato a qualcos'altro io pensavo che a un certo punto se quella cosa io l'avessi fatta con rigore mi avrebbe regalato delle cose e io l'ho sempre fatta con estrema dedizione perché era cosa che mi piaceva e l'unico modo per ottenere qualcosa una cosa che ci piace a farla diventare una delle priorità della nostra vita no se non si scappa tu non puoi amare profondamente una roba e lasciarla da parte impossibile e quindi è sono successi tutta una serie di cose sono arrivato il giorno in cui stefano sollima mi ha detto che ero stato preso per fare su burra il film mi ricordo ero sotto casa mia la carbatella stavo uscendo e mi ha detto sei te o fai te e io ho pensato che in quel momento che era la cosa che forse stavo aspettando da tanto tempo rispetto all'occasione appunto di ok c'ho un'occasione per dimostrare che posso fare qualcosa è diventata subito normale cioè si è normalizzata in un secondo ed era no perché uno sa le immagini dice madonna quando mi chiederanno ti fa un film da protagonista con un cast come punto picchio cioè io vengo a picchio famino per me era l'altro giorno ci siamo scritti che sono andato a vedere il suo film che ho amato profondamente e lui mi ha ringraziato ha detto amico ma che mi ringrazio ha fatto tu io ho ancora ispiri generazioni di attori te no quella è l'infa vitale per me picchio kim elio germano cioè c'erano elio picchio e io andavo sul set quando non lavoravo per vederli lavorare capito era una roba per imparare delle cose per capire delle dinamiche del lavoro e appunto dice ok arriverà quel giorno e che succederanno starò tra le nuvole per una settimana oppure mi vergognerò è invece è stato guardate hanno preso a te incredibile perfetto come fame film cioè adesso adesso poi non ce l'ho più a scusa che non mi hanno dato la possibilità di dimostrare delle cose quindi mo se sbaglio questo certo quella roba diventa subito reale diventa la prendo la terra sei già al passaggio successivo c'è in un secondo sello step successivo sono molto pratica ok che di solito va un po potrebbe andare potrebbe sembrare strano perché i nostalgici di solito non lo sono no perché il nostalgia che uno che si perde nelle cose quindi poi il processo per ritornare alla terra è complesso di solito quantomeno un po più lungo invece io ho questa roba che sto lì e penso una roba e poi un secondo torno e faccio le cose cioè le faccio le faccio perché ho bisogno di avere una dimostrazione pratica quando stavo a scuola mi faceva sempre ridere questa cosa mi fa ridere non mai raccontata quando mi insegnarono il metodo l'introduzione del metodo sperimentale che cos'era il metodo sperimentale era dimostrare una cosa per sostenerne la tesi che è la cosa più naturale del pianeta cioè se tu pensi che prima c'era qualcosa che si poteva dimostrare senza via una dimostrazione dire senza niente è una cosa assurda e mi ricordo quella cosa rimase impressa nella mia testa e adesso per me è l'unico modo di avere una di io devo proprio io devo fare devo fare devo vedere devo sbagliare devo essere ripreso dove essere mortificato c'è un sacco c'è un processo che fa parte del quale fanno a cui partecipano un sacco di di fasi diverse ancora adesso che ancora adesso anche se a volte di simulo dell'ansia arrivo sul set di massa io ormai ho fatto dei film ma in realtà io mi cago sempre cioè nel senso c'è sempre una paura di sbattella sai dipende proprio un po dal da quella sensazione di non sentirsi mai perfettamente all'altezza di quello che si sta andando a fare almeno per me è così cioè poi quando arriva un momento in cui ti propongono le cose lui non fai più provini quindi non hai avuto una fase in cui hai dimostrato a te stesso di essere in grado di fare quella cosa loro danno per scontato che tu quella cosa avevo pensato a te per un film no e io dico guarda sì grazie vediamoci parliamo però poi di solito la domanda che io vorrei fare ma perché hai pensato a me e perché che hai visto cosa ti è interessato delle cose che hai visto cosa pensi che ci sia la possibilità di raccontare oltre quello che ho già fatto è quello che che mi interessa andare ad esplorare andare ad indagare ma sempre con una componente che ha che fare con la paura con l'incertezza con quella cosa che ti fa stare con le ghiappe strette lì dicevi scusami quella cosa della scuola era il fatto che tu ti c'era questa roba qua che ti aveva colpito sì sì ma aveva molto colpito era una roba che mi ricordo perché perché è impossibile che prima qualcuno potesse dire qualcosa senza dimostrarla no e quindi mi rimase impressa questa roba e tra quel momento in cui hai citato della chiamata per per suburra è stato il momento di di switch della tua carriera secondo te sì è stato quello è stato il momento in cui io perché poi non essere cattivo che è un film a cui io tengo tantissimo tra l'altro è sceso netflix questi giorni ma che lo sapevo con luca con luca marinelli appunto è un film che è stato girato dopo suburra ma è uscito prima quindi per molte persone il mio battesimo al cinema è stato non essere cattivo in realtà è stato suburra da un punto di vista di lavoro sul no perché infatti io ricordo che poi tutto l'hype attorno anche al tuo nome al nome anche di luca era arrivato da non essere cattivo e poi ah guarda adesso fa anche invece tu hai fatto prima hai fatto prima suburra e tra l'altro ci fu una cosa molto bella perché claudio caligari che è stato una delle persone più importanti nella mia vita sono maestro per me un giorno loro presente lui e solli ma si incontrarono e e solli ma mi disse ho incontrato caligari e ho detto ma vado via sto ragazzetto per fa sto film e lui spese delle parole molto belle per questa e non era non era da claudio claudio era uno che parlava poco e quindi è una cosa insomma il ricordo di questa cosa mi emoziona molto anche perché quel film fu una cioè ci fu veramente tanta roba che aveva poco a che fare col cinema e tantissimo con la vita noi io e luca eravamo due ragazzetti luca aveva già fatto la solitudine dei numeri primi invece io ho fatto soltanto suburra e avevo quella paura che si ha quando non si assicuri che quello che ti è capitato sia per merito ma per fortuna e quindi avevo avevo preso suburra e dico vabbè ma magari è stata una volta del culo e quindi sentivo di dovermi dimostrare di essere in grado di poterla continuare quella cosa di poterla dimostrare ancora e ancora e andando a didagare delle cose mi mettevano paura che conoscevo poco che facevano parte di un cinema che 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 magari non mi apparteneva neanche no quindi essere disposto a fare delle cose sulla carta non mi stavo in grado di fare e quindi suburra fu sì fu il momento in cui dissi ok adesso volevo l'opportunità ma l'opportunità ce l'ho e quindi anche perché poi da lì si è scatenato tutta una serie di cose in sequenza in cui poi il tuo nome nel nome più caldo ogni volta che insomma c'era grande attenzione e tu quella cosa di la senti che cresce intorno a te ma sai a un certo punto tu inizi proprio ad esistere certo non esisti prima e questa è un po una cosa ma non è una cosa brutta è l'industria e questa roba qua funziona per tutti cioè tu esisti soltanto quando qualcuno inizia a dire il tuo nome non quando vieni al mondo cioè è una cosa strana e sarebbe bello appunto se potessimo essere legati soltanto al talento e quindi oggettivamente decidere chi è in grado o no di fare qualcosa invece c'è qualcuno più bravo qualcuno meno bravo qualcuno che la gestisce meglio qualcuno che lo fa peggio e però è perché in quel momento in cui qualcuno decide di dedicarti un'attenzione tu devi essere lì e devi essere pronto a dimostrare che quell'attenzione in qualche modo te la meriti e questa cosa è necessariamente e in maniera imperativa una roba che sale e scende in continuazione cioè nessuno di noi può pretendere da noi stessi di essere sempre al top per tutta la vita cosa faticosissima anche perché ha molto a che fare col giudizio io odio il giudizio odio il giudizio perché do io agli altri e ogni tanto mi fa schifo e quello che danno gli altri a me e quello che danno gli altri agli altri cioè tutta questa roba in cui tutti sono pronti a puntare il dito a dire qualcosa fuori luogo nei confronti qualcun altro mi mortifica spesso beh nonostante tu faccia un lavoro in cui sei particolarmente esposto al giudizio c'è ad esempio il giudizio quello esiste ancora immagino la critica cinematografica ovviamente esiste ma dico esiste anche in questo nuovo mondo della della comunicazione esiste il critico che fa questo di mestiere esiste adesso oggi io che vado al cinema e poi dico anche la mia opinione tu quelle cose le guardi prima molto di più perché poi ho capito che mi facciano stare molto male sì ma non perché pensa non perché qualcuno se a me qualcuno viene mi dice sai il tuo film non è piaciuto ti spiego perché bello mi metto seduto lo ascolto è invece quello che ha la cosa molto brutta alla quale siamo stati abituati quei social è la modalità coatta grottesca e irrispettosa di avere a che fare con gli altri cioè c'è quella cosa no per la quale se io a te ti voglio di una roba rispetto al tuo programma se sto qui te la dico nella determinata maniera se invece sto dire una tastiera completamente in un'altra maniera e quella roba mi dà molto fastidio e tira fuori la mia parte peggiore che la parte di strada cioè capito è quella roba l'altro giorno ho espresso dei pensieri rispetto a ellis line ok che è un'amica una persona che stimo profondamente e io notoriamente non sono uno che si esprime in politica perché non ho una conoscenza politica non degli strumenti politici per poter avere delle valutazioni tecniche e quindi mi innamoro gli esseri umani e elli è stata una persona che quando uscì sulla mia pelle fin su stefano cucchi mi invitò al parlamento europeo a bruxelles per fare una proiezione da lì abbiamo avuto modo di parlare molto dei nostri pensieri delle nostre posizioni e lei infatti rimase anche stupita il fatto che io anche avendo fatto un film come quello su stefano non avessi una posizione politica e in questo momento a un certo punto ho detto sono contento che elli c'è perché ho sentito parlare alla camera di altre persone non succedeva da un po e sotto ma ma hanno ammazzato e però non mi hanno ammazzato ma poi è una presenza stupidissima cioè sto parlando del nulla mi rendo conto però no no in realtà è molto molto concreta questa cosa ho capito cioè il fatto che io dica sono contento che c'è ellis line se io dico qui al tavolo sono contento che c'è ellis line e tu mi rispondi una pezzo di merda mi devo andare a casa io te confio di botte su internet stai lì stai lì perché c'è la tua bella tastierina dove ti sei creato il tuo mondo fittizio dove puoi dire quello che vuoi a chi vuoi senza curarti delle emozioni degli altri è una cosa mi spaventa un po poi un esercizio è proprio pensare chi ha scritto questa cosa che valore ha questa cosa qui realmente bravissimo e qui è la soluzione per decidere di non dare più importanza a quella cosa là perché sai che le persone che scrivono quella roba sono persone delle quali a te non ti importa nulla né del loro giudizio né del loro pensiero devo dire che spesso mi sono trovato ad avere delle discussioni perché io sono una persona abbastanza poco democratica cioè io nella mia vita ho voluto ascoltare soltanto quelli che sapevano delle cose non sono uno che al tavolo vuole sapere l'opinione di tutti o meglio non vuole sapere l'opinione di tutti se l'opinione di alcuni l'ha già sentita e ha capito che non è in grado di sostenere delle argomentazioni interessanti che possono in qualche modo accrescere la mia conoscenza e quindi adesso riguardo poco quasi per niente anzi a volte per esempio quando uscirà la serie di super sex abbiamo cominciato a parlare spesso di come gestiremo quella roba probabilmente dovrò fare proprio scegliere quattro uscite fatte bene con delle persone che stimolo che so che saranno in grado di comunicare la serie in una certa maniera e i social dovrò cercare di limitarli il più possibile perché già adesso quando abbiamo fatto le prime uscite di quella roba che arriva di tutto ma scrivono tutti la stessa battuta quello che dico almeno leggete quello che scrivono l'articolo così ne fate una diversa sì sì perché subito chiaramente poi vai a toccare dei temi dove diventa per chi non è capace più facile dire queste robe qua no beh un po' sì è stato impegnativo ma insieme me l'hai citato e chiaramente c'è un po di curiosità è stato molto difficile è una serie quindi è una serie super sex che uscirà su netflix ancora dobbiamo capire quando insomma di quest'anno inizio il prossimo è stato molto bello è stata innanzitutto un grande viaggio nella vita di Rocco che è diventato un amico lui è rosa sua moglie e mi hanno un po' aperto le porte della loro casa della loro vita della loro storia e Rocco mi ha detto molto più di quello che avrei mai potuto immaginare perché a un certo punto mi sono reso conto che l'idea che avevo di Rocco non c'entrava niente con quella che poi era invece l'essenza di quell'essere umano che è uno che fondamentalmente molti chiedono ma c'era bisogno di fare una serie su Rocco si freddi e l'altro giorno lui ha risposto beh guarda è soltanto l'attore porno più famoso del pianeta guarda un po' te se c'era bisogno ma poi credo sia proprio interessante a livello di test con tutte le sue contraddizioni tutte le con tutti i suoi sbagli con quelli che facciamo tutti fondamentalmente e soprattutto parlando di una tematica che in questo paese è tabù cioè in questo paese tu poi parla dei morti ammazzati ma non di sesso è una roba assurda questo cioè c'è proprio una roba c'è un silenzio che cala quando si comincia a parlare di quella roba ed è il motivo per il quale quando mi chiedono ah ma perché hai accettato di interpretare così frittico ragazzi nessuno mi ha chiesto perché avevo accettato di interpretare Aureliano Adami che era uno che usciva e sparava gente in faccia senza motivo per i terreni di ostia capito come invece qui però sai e questo la dice lunga è vero questo è un punto di vista a cui non avevo mai pensato è vero è vero lì è durato tanto la durato tanto la ripresa beh su burra è stato un viaggio incredibile perché su burra la serie è stata la prima serie netflix netflix non esisteva in italia quindi c'era un'attenzione nei confronti quella roba un'attesa e la prima stagione è durata quasi otto mesi ok è stata una cosa incredibile lunghissima bello grandi ricordi beh quello è epico anche quello ha segnato anche un cambio anche registico credo di linguaggio nel cinema è stato molto forte sì è stato per me è stata anche un po il riuscire a capire l'importanza di decidere di gestire la misura in cui decidiamo di avere a che fare col cinema e con la serialità perché sono due dimensioni estremamente diverse tu come le vivi entrambe io devo dire che la serialità mi affatica molto da un punto di vista proprio di durata del lavoro cioè la dimensione cinema mi interessa di più perché riesce a tenere meglio le fila del personaggio di quello che devi raccontare in qualche modo quando sei fortunato riesci a lavorare in ordine cronologico quindi hai pure tutta una serie di cose che hanno a che fare con la costruzione che sono più interessanti e più manovrabili la serie è un bordello ragazzi in serie è un bordello perché perché giri nella stessa giornata episodio 2 episodio 5 episodio 8 devi saltare devi ricordarti le cose a volte inizi dalla fine cioè sì 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 io che sono un grandissimo rompi i coglioni proprio io sono vergine ascendente bilancia con tutte le sue erano proprio a volte poveracci che gli aiuti che fa l'aiuto regista e che fa produzione che fa e l'organizzatore io li massacro perché cerco il più possibile di rendere le cose organiche no e che mi fanno adesso non posso girare sta roba in sequenza perché mi costa 200 mila euro di più e io sto lì che era un po' però poi a volta ecco l'incontro tra queste due cose magari riesce a trovare una una soluzione che va da tutte e due le parti che ti consente di un cappottarti come usiamo noi in termine chiaro in gergo e però invece di di non doverti costufare la storia no però è figo perché non sei un attore non so se esiste anche l'altro tipologia però che va sul set e recita e basta nel senso c'è tutto in testa anche tu quello che sta succedendo quando hai a che fare ad esempio con con un film come quello una serie come quella con rocco quindi un'opera in cui c'è un attore che tu devi interpretare che ancora vivo e che anzi ed è anche un gran personaggio cosa fai tu ci parli prima ti fai raccontare da lui lo studi come funziona guarda allora con rocco è stato molto diverso che con le mie esperienze esperienze precedenti perché avevo capito che c'era una persona disposta a donarmi i suoi pensieri e perché non è sempre così parte che la prima volta che io interpretava una persona che la dimensione è strana perché ti costringe ad avere a che fare anche con con un discorso etico non nei suoi confronti perché ovviamente la serie di rocco ne abbiamo parlato spesso è tratta dalla sua vita a una parte romanzata perché poi noi facciamo raccontiamo delle storie ma soprattutto nella serialità dobbiamo fare anche intrattenimento e quando si arriva all'intrattenimento si deve in qualche modo essere sicuri che rocco capisca l'entità di quell'intrattenimento anche uscendo dalla verità a volte no ovviamente quando una persona mette la sua vita a disposizione di un racconto quella cosa non è semplicissima e allora comincia a farti delle domande è che tipo rocco che avrebbe fatto rocco che avrebbe pensato in una situazione ricostruita no perché anche nella finzione tu devi fare il personaggio quindi cosa che ti ha colpito di più di lui ma guarda lui ha un amore sconfinato per la sua famiglia che è una roba fuori testa lui parla dei figli in una maniera della moglie in una maniera che ho visto poche volte nella mia vita e per una serie di motivi che lo rendono una persona a quale voglio molto bene che sono molto legati all'insicurezza sono molto legati alla paura di deludere qualcuno perché quando si ha a che fare con quel mondo poi si è fagocitati da appunto dal giudizio dal punto di vista degli altri dal fatto di doversi sempre sentire nella posizione di doversi giustificare no che è una cosa orribile per una roba che è assurda poi insomma per tutta anche una serie di cose non bere che sono andate in giro su di lui e quindi mi ha colpito questo suo accogliormi e la sua felicità e il suo entusiasmo nel sapere che sarei stato io ad interpretare cioè hai avuto la sua più che benedizione nel senso è stato molto bello e devo dire che la serie io ho visto fino adesso montata bene fino alla metà fino al quarto episodio ed è una bellissima bomba cioè una bellissima serie perché è una roba che in italia non era mai stata fatta ed è una serie molto diversa da quello che ci potremmo immaginare perché uno si aspetta una serie sul porno un tap up in realtà è quella roba lì ma poi è una serie che piomba nell'oscurità delle emozioni delle relazioni io ho visto il documentario su di lui e ci sono alcuni suoi racconti alcune sue ossessioni malattie in alcuni casi che colpiscono quindi sono davvero curioso come in quel film come come in altri le scene di sesso come si fanno le scene di sesso si fanno innanzitutto cercando di tutto bisogna essere fortunati cioè incontrare delle persone che hanno la nostra stessa gestione e idea di quella cosa lì perché che qual è il rischio più grande che dico sempre che poi in qualche modo sia dalla parte che dell'uomo che della donna ma anche tra uomo uomo e donna e donna sul set potrebbe accadere che una cosa che tu metti in scena possa essere fraintesa come una cosa che vuole invece la persona e non il personaggio cioè ecco la situazione strana dove se tu fai una roba che che ti muove da un punto di vista di racconto magari l'altro può dire perché sta a fare questa cosa che vuoi fare ci vuole dire qualcosa no cioè e bisogna sfuggire da quella cosa lì il modo più semplice per sfuggire da quella cosa è dirselo prima ok quindi ci si parla è andare da la persona che fa raccontare la scena e dire guarda per curiosità allora o gli dici no guarda a me mi piace pure nella vita quindi ok c'è sto a buona e qui te lo dico prima oppure è è guarda tutto quello che farò non sono io ok è il personaggio e lo fa a favore del racconto quindi non sentirti minacciato minacciata non sentirti messa in discussione non sentirti cioè cerca il più possibile di dirmi quando non ti senti a tuo agio perché da quella cosa noi ci fermiamo ripartiamo aggiustandoci no piano piano attraverso questo percorso si riesce ad arrivare a una situazione di di estrema di diventa una cosa dove ci si capisce anche senza dirsi delle cose si sa perfettamente fin dove ci si può spingere a favore del racconto e mantenendo invece intatto il rispetto per tutte le persone che sono sul set è una cosa molto delicata ma che diventa complicata soltanto quando è difficile perché quando invece si ha la fortuna di trovarsi è una roba che neanche ci stai a pensare succede basta certo e noi sono roba da gestire c'è lì diventa quando un po in film è basato su quella roba lì diventa diventa così era una delle mie più grandi preoccupazioni per fortuna poi invece che grazie anche all'aiuto della nostra intimasi coordinator e al rispetto di tutti siamo riusciti a creare un po un'isola felice dove essere nudi era diventato normale e quindi si stava si stava bene ma anche per esempio parlando di in delta c'è una scena che poi è stata montata in una maniera un pochino più corta ma una scena in cui io avevo faccio questa scena di sesso con con anna con emilia scarpati fanetti dentro questa capanna e a un certo punto lì perché sai sul rocco tu cominci a pensarci da prima ok a un certo punto arriverà quel momento quindi come faremo lì invece quando è soltanto una piccola parte di un racconto è come se in qualche modo tutti quanti noi tendessimo a dargli meno importanza dire vabbè sì c'è una scena di sesso ma che se ne frega però poi ci poi ci arrivi ragazzi ma è fondamentale cioè è come nella nostra vita no il rapporto il tipo di affinità sessuale che riusciamo a stabilire con un altro essere umano è una roba che sta boh almeno per me alla base di tutto di tutto cioè sarebbe stato impossibile per me tutta la mia vita innamorarmi di qualcuno con cui non ho trovato una vera affinità sessuale e quindi quella roba poi quando arrivi là dici ok fino adesso ho fatto il film mi sono immerso nel fiume abbiamo fatto però questa cosa bisogna farla e come la fa il personaggio come la fa Anna in quel caso come facciamo questa cosa non essendoci mai scambiati nessuna idea al riguardo e poi per fortuna Emilia era una che aveva un approccio come il mio cioè una che si butta cioè una che si fida perché alla base di tutto ci deve essere una grande fiducia impossibile lasciarsi andare quando dall'altra parte non si ha la sicurezza di essere protetti chiaro chiaro e ho parlato spesso come in questi giorni una delle mie più grandi fortune sia è stata proprio quella di sentirmi sempre estremamente protetto da tutti cioè io quando sto sul set mi sento che tutte le persone che mi guardano sarebbero disposte a sacrificare qualcosa per la protezione di me e degli altri attori sul set è una cosa molto bella mamma mia è una cosa molto bella e ho parlato spesso lei adesso si vergognerà perché lo dirò però su Rocco ho avuto questo incontro con Daria D'Antonio che è la nostra direttrice della fotografia e che è stata incontro fulminante cioè nel senso è il primo giorno ci siamo incontrati mi sembra di conoscerci da 30 anni e quando io non mi sentivo troppo sicuro di qualcosa c'erano i miei registi che erano meravigliosi però io sapevo che c'era Daria che mi guardava e Daria avrebbe trovato un modo di farmi sentire sicuro è bello avere cioè riuscire a trovare poi non è sempre facile beh no non succede sempre quando succede è straordinario ma tu ti sei mai sentito in imbarazzo sul set o sei un'altra persona e quindi ragioni anche in un modo diverso guarda no non mi sono mai sentito in imbarazzo o anzi potrei dirti che le volte che mi ricordo di aver provato una sensazione di imbarazzo sicuramente non erano legate a scene di sesso però a volte a volte mi faccio delle domande Mauri l'altro giorno ha parlato della Turetta e tra l'altro quando lui ha detto quella cosa ha fatto un pensiero che non mi aveva mai detto e che mi ha costretto a fare una riflessione anche a me ma sai che ci ho pensato cioè quando lui ha parlato mi è sembrato che fosse un pensiero che non aveva condiviso con te ma che fosse il suo punto di vista io l'ho detto ma magari non ti andava ha fatto una cazzata e quindi è anche quella roba la gestione di una cosa che fisicamente mi impegna e tra l'altro voglio dirti questa cosa io da quando è quasi un'ora che stiamo parlando e ci ho avuto tre tic che è una roba che mi succedeva a 50 anni è buona questa cosa avevo il terrore vuol dire che sto veramente bene no di solito c'è uno 300 che tra l'altro ti posso dire questo e ne approfitto anche per una mia curiosità personale perché è un tema di cui negli ultimi anni si parla è venuto fuori c'è un altro amico che ha la stessa cosa e mi sono sempre chiesto quando parte come funziona c'è una cosa con cui nasci allora parto con il dirti che io ho scoperto di avere la tourette quando ho conosciuto la mia compagna perché mia compagna è una psicologa e un giorno mi ha fatto una domanda ma così a brucia pelo mi ha detto ma tu questi tic quant'è che ce l'hai? dico beh ho risposto a un po' di cose mi ha detto ma tu non c'hai tic tu c'hai la tourette boom però ce l'hai motoria non ce l'hai verbale perché il problema è questo che la tourette è famosa è quella delle parolacce ah ok ok quella è la gente che ha già avuto bestemmia perché è quella che si conosce più perché è quella più aggressiva invece c'è appunto tutto un mondo che riguarda la parte motoria che sono tutti gli effetti dei tic soltanto che amore ma spero di non sbagliare che il tic viene da una cosa post traumatica cioè il sindrome di stress post traumatico è una cosa che ti è successa che ti ha cambiato qualcosa e il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì e quindi si può guarire da un tic dalla tourette no perché la tourette è una cosa neurologica che è come uno starnuto perché tu quando ti viene da starnuti devi starnuti e a me quando mi viene da fare della roba varia subito hai visto il Luis Capaldi? ho visto? me l'hanno mandato tutti eh beh ok ma quando è una roba io non so se sai ho una cosa al cuore io vivo con un defibrillatore sotto pelle da quando ho 15 anni l'ho raccontato per la prima volta nella mia vita non avevo raccontato nessuno amici non lo sapeva nessuno l'ho raccontato insomma l'ho detto pubblicamente qualche tempo fa ah ho scritto un libro che raccontava questa cosa ed adesso ogni volta che c'è qualcuno che anche gli batte un po' il cuore più forte mi mandano subito ho mai visto questa cosa? oh ma no no ragazzi ho visto però quindi immagino figurati nel tuo caso sì me l'hanno mandato e poverino mi ha fatto tanta tenerezza eh faceva molta è stato molto forte è successa una cosa un po' strana perché di solito appunto io quando recito la tourette sparisce ok e infatti quando a volte dei registi mi hanno chiesto senti ma tu puoi mettere qualcuno di questi tic nel personaggio per me è difficilissimo perché io lo devo recitare certo perché lì non ci viene fa un doppio salto mortale è una roba faticosissima che giro e però di solito quando poi fai quella roba lì sparisce e quindi è strano che a lui sia venuta così tanto perché si vede che era proprio no quella cosa succede quando sei stremato cioè si vede che era stanchissimo esatto a che cosa è collegato? la stanchezza? un disagio? guarda in realtà e questo sempre perché me lo dicono persone più intelligenti di me non io è una cosa che in realtà almeno per me corrisponde a dei picchi emotivi cioè mi può avvenire anche quando sono molto felice come quando sono molto stanco come quando sono molto stressato cioè quando c'è un molto da un punto di vista di flusso emotivo quella roba succede poi certo ecco lì sono poi ce l'ho moltissimo devo dire quando sono in delle situazioni che mi mettono in una situazione di disagio cioè quando se sto a tavola in una scena dove ci sono 4 o 5 persone che sono poco simpatiche non puoi nascondere niente non puoi nascondere niente però posso dire delle bugie benissimo puoi recitarle se diciamo da quel punto di vista posso dire delle grandi bugie funziona però questa cosa della recitazione è incredibile infatti lo dicevamo anche con Mauri a me viene semplicemente il caso di Filippo Timi che sulla balbuzia è così e quando si recita viene fuori una roba una roba diversa quindi insomma l'hai scoperto che tu già facevi l'attore non ti sei mai posto un problema che questa cosa potesse ostacolare qualcos'altro ma no perché sai è bellissimo sapere che non c'è una cura una cosa che ha ok azzo cioè in qualche modo è tu dici a questa io devo viverci questa è una frase forte che ci sono persone che hanno delle cose brutte però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta cioè non lo so io sono stato vicino a persone ho perso un sacco di persone cioè quel limbo strano dire non sapere esattamente cosa hai non sapere se in qualche modo puoi curarla controllarla al sapere guarda amore tu hai la turetta e questa cosa da questa cosa non si può guarire quindi troviamo dei modi per rilassarci di più per restare più tempo e quella roba poi diventi tu cioè fa parte di te io non riesco a immaginare me stesso senza la turetta sì sì lo devi far diventare un valore non so come dire e poi c'è questa cosa di la quale ho parlato per la prima volta l'altro giorno ho fatto un'intervista con Paolo Cognetti certo che è l'autore di Otto Montagne comunque poi abbiamo fatto il film insomma che è stato un momento splendido della mia vita e gli raccontavo questa cosa che in realtà molto spesso la turetta mi viene quando ho a che fare con il mio corpo che cosa vuol dire che io cioè molte cose di me non mi piacciono e non mi piacciono perché io sono uno che diciamo geneticamente non è stato non è portato ad avere il fisico è uno che cioè quando ci voglio avere il fisico mi da allenare perché appena sgarro un secondo mi ingrasso faccio roba e quindi che succede che visto che sto molto attento quando lavoro quando non lavoro tipo adesso mi lascio andare embreago faccio bagno cose e quindi ho ripreso sei chili da quando ho finito di girare Rocco e quando succede che mi guardo allo specchio e sento di non essere a mio agio con me stesso c'ho e dei picchi di toletti incredibili vedi che è tutto è tutto qua credibile e faccio questa cosa che a dire ne fa sempre sorridere che io quando mi guardo allo specchio cioè che ne so tu ti prepari ti vesti poi ti guardi allo specchio io ho sempre un tic che mi fa camminare indietro cioè che è una cosa che mi allontana dalla mia immagine ma va cioè che è una roba incredibile cioè tu non te ne accorgi neanche è normale che mi viene e la spiegazione che io do a questa roba è proprio di prendere una distanza da questa cosa che vedo che sono io che però alla fine forse non mi piace così tanto comunque vedi poi è tutto è vero tu dici non c'è una soluzione eccetera però poi cambia molto anche come sei tu magari fra una decina d'anni tu avrai una serenità diversa con te stesso e questa cosa magari diventa un'altra cosa ci sono dei luoghi in cui riesco a stare più sereno tipo adesso quando sono tornato ho stato un mese a Parigi a girare Rocco e poi sono tornato e sono andato dieci giorni a Bali ok perché ho costruito un piccolo alberghetto a Bali con un mio amico fratello è l'unico posto del mondo in cui ho detto io qua mi fermerei è quello che sto cercando di fare io è un posto che mi riallinea con me stesso rispetto a una serie di cose e credo pensa che la cosa sia molto poi ci sono molte altre cose che dipendono appunto da quello che vedi da quello che fai da come gestisci la giornata ma c'è una cosa che è un po' il segreto di quella felicità che riesco a raggiungere a Bali che è che ci sono nove ore di fuso orario e quindi tu sei sicuro che quando ti sveglierai fino alle cinque di pomeriggio nessuno ti può rompere i coglioni è una cosa incredibile cioè tu ti svegli e dici ok adesso fino alle cinque non mi può chiamare nessuno ma nessuno perché stanno tutti a dormire in Italia però non c'è quando ti svegli al mattino l'ansia del guardi il telefono e hai tutto accumulato lì no no quello non tanto no non ce l'ho tanto poi arrivo ai cinque lo so che mi chiameranno dieci persone però intanto fino ai cinque però ti sei fatto una giornata sono andato in spiaggia sono andato in palestra ho fatto una passeggiata sono in spiaggia ho visto delle persone che stanno lì perché hanno deciso di cambiare vita e quindi ogni persona che tu incontri dice ma tu devi venire a vivere qui ma guarda siamo felici abbiamo fatto 47 bambini poi il problema più grosso che ci abbiamo è che non ci sono onde per surfare oggi è vero e che la roba è molto bella è cazzo è molto bella vedremo vedremo se riusciremo cosa succederà a proposito di estero tu sei tra quegli attori che ha fatto un po' di esperienze con produzioni estere com'è? com'è stato? vabbè Diavoli è stata una bomba è una figata com'è stato lavorare con Patrick con Patrickone nazionale ma guarda qui riprendo anche una cosa che ha detto Picchio che è vera che lui dice l'altra volta ha detto alla fine il suo mestiere è uguale quando danno l'azione è quello quel mestiere poi certo il sai quello che c'è intorno ovviamente leggermente può cambiare rispetto ai soldi che ci sono il budget è una componente fondamentale però poi andando avanti mi sono sempre sempre più convinto che le storie siano alla base di questa roba sono convinto che i film belli debbano avere prima di tutto una grande scrittura poi viene tutto il resto e quindi poi ci si adegua e si fa si cerca di essere parte del processo e di onorare la scrittura io recito ovviamente tutto in lingua originale tu con l'inglese eri già pronta eri già briefato perché avevi in mente di fare una cosa avevo la verità è che io parlavo un inglese l'inglese da rimorchio quelle parole chiave esatto ero stato un po' di tempo a New York ero andato un po' in giro quindi parlavo un inglese così poi a un certo punto il fatto è stato che mi hanno chiesto di avere una conoscenza profonda della lingua ma soprattutto io ho un accento un po' americanetto invece di avere un accento british perché il personaggio appunto era uno che stava a Londra da 15 anni e quindi abbiamo iniziato un processo che è stato bellissimo di scoperta dove mi sono veramente cagato sotto avevo una paura incredibile di non riuscire ad arrivare a quella roba là perché poi sai non è che tu stai a fare una cosa in inglese con gli italiani quindi ho tutti inglesi madrelingua e quindi mi sentivo giudicato in continuazione ogni volta che facevo un take io sentivo i pensieri della gente capito era tipo what women want ti ricordi sì sì che sentivo ecco la roba e piano piano però ho cercato di far sì cioè invece di dire ah basta che se mi giudicano è stato ok devo arrivare a un punto in cui questa sensazione non ce l'ho più e quindi ho continuato a lavorare forte grazie al mio meraviglioso coach che è Adrian McCourt di cosa fai lezione proprio prima della serie ho fatto tre mesi tutti i giorni tre ore al giorno cioè andavo lì ed era prima parole così chiacchiere normali e poi era tutta l'applicazione della finanza ma certo perché avevi bisogno dei termini tecnici che cosa che fa molto ridere è che io in italiano non sarei in grado di andare in una banca e fare un discorso in inglese sì c'è capito è una roba incredibile adesso sei pronto e poi vabbè ho avuto diciamo anche un grande maestro che è Guido Brera che è anche diventato mio compagno di vita ma tu ce l'hai nel senso per quanto riguarda il cinema se uno gioca gioca a basket sogna di andare a giocare in NBA tu hai quel sogno di Hollywood di voler restare fare disfare allora ce l'avevo più prima nel senso ovviamente se dovesse arrivare alla proposta Hollywood sarei più felice del mondo però non c'è una ricerca ossessiva di quella dimensione per diversi motivi perché innanzitutto andando avanti ho capito che questo lavoro noi lo facciamo molto bene se vogliamo e quindi riusciamo a levarci i sassoni dalle scarpe soprattutto adesso che c'è una dimensione che ci ha reso parte integrante di un contesto internazionale prima per un po' di tempo ci hanno un po' schifato adesso invece l'Italia c'è esiste ci sono dei grandi autori che portano avanti tutta quella roba lì che c'è poi Netflix che è citato poi le piattaforme quella roba lì ti fa uscire quel giorno in tutto il mondo assolutamente sì quella roba è assurda la roba è assurda dicevo io racconto sempre che io sono passato appunto da un'idea di tv generalista in cui si facevano delle cose che non so Rai, Mediaset e si usciva se facevi un grande ascolto facevi 8 milioni di cose di visualizzazione di telespettatori a quando poi siamo andati a fare Suburre quando è uscito ci hanno detto guarda ragazzi credo l'abbiamo vista una settantina di milioni di persone cambia il bacino proprio beh no ma poi c'è anche vieni anche responsabilizzato rispetto al racconto non è che ti rispondi non voglio farne una cosa etica cioè che io devo mandare un messaggio ma è proprio che devi essere in grado di trovare una linea che è un punto in comune quasi di comunicazione tra tutti e quindi poi quando che ne so facciamo sulla mia pelle il giorno dopo mi arrivano messaggi da Nicaragua dal Messico dall'America ecco quel film ha avuto un'appilla anche sul pubblico straniero sì moltissimo cioè nonostante sia una storia molto italiana per tanti motivi beh però sai quella lì c'è un segreto che è l'universalità della tragedia cioè quella non hai idea della quantità di messaggi che mi sono arrivati da gente da tutte le parti del mondo scritto è successa la stessa cosa a mio figlio è successa la stessa cosa a mio fratello è successa la stessa cosa a mio padre cioè una roba assurda e quello diventa un punto di unione io dico sempre che la cosa della quale riesco ancora a stupirmi incredibilmente tutti i giorni di questo lavoro è il modo in cui riesci a stabilire l'empatia con gli altri cioè io ti racconto una cosa e nel racconto se io adesso te la racconto tu poi puoi decidere se portartela a casa o no invece il cinema ti costringe a metterti nei panni di quella persona che io ti racconto e fa un processo che è la distinzione reale tra l'essere parte integrante di un processo di crescita umana che è l'empatia e quello che invece va dall'altra parte che è la pena cioè che guarda quel poraccio sti cazzi e guarda quel poraccio fammi fare qualcosa quindi fondamentalmente è lì che si chiude beh il caso di sulla mia pelle è clamoroso perché ha scatenato esattamente questa roba qui cioè riportando alla luce alla coscienza di alcune persone una mossa insomma gli ha dato beh lì c'era una battaglia di dieci anni di una donna che si chiama Ellaria Cucchi che aveva deciso che sta giustizia sarebbe dovuta arrivare prima o poi noi siamo stati un piccolo ingranaggio che è un po' una scintilla se quando arrivava alla fine c'aveva bisogno perché? perché ha fatto quel processo lì perché l'aveva sempre raccontato dalle sue parole e alcune persone nelle sue parole non riuscivano a riconoscere una cosa che sarebbe potuta accadergli ma è egoismo questo capito? invece poi quando quella roba l'hanno vista e hanno capito che potrebbe essere veramente un figlio un cugino un padre un fratello quella roba diventa parte diventa un rischio diventa una cosa contro la quale combattere contro l'ignoranza contro il menefegrismo contro il giudizio perché noi abbiamo parlato molto del fatto che se Stefano Cucchi non fosse stato un tossico dipendente sarebbe ancora più e quindi c'è questa tendenza ad etichettare le persone e a spingersi nella parte opposta invece che andare verso di loro quando c'è qualcosa che non conosciamo che qualcuno ci ha detto che teoricamente dovrebbe spaventarci di solito è quello che non conosciamo poi no? quindi adesso cioè insomma è sempre contemporanea poi questa roba tutta questa gente che arriva da paesi in guerra e che ancora ci sono persone che dicono ma andate a casa vostra che siete venuti a fare? però lì il cinema a quel punto può fare può fare tanto nel senso che se tu riesci adesso non è che puoi rappresentare ogni ingiustizia ogni target però rappresentando cazzo non puoi restare indifferente a quel punto sai c'è c'è un trucco cioè il cinema può raccontare delle storie e mettere dentro un messaggio anche subliminale che ti costringe a interrogarti su delle cose poi può anche non farlo c'è anche il cinema di puro interattenimento meraviglioso però per esempio se vogliamo parlare di una roba così fresca che è everything everyone wants quello è un film che sembra una giostra e poi sotto c'è un messaggio che ti spacca la testa cioè io sono uscito detto ok da paura belli cose i mostri però poi alla fine quello si giri e gli dice avevo voluto passare tutta la vita a pagare tasse con te dietro quella roba rimani un po' infatti un po' di Oscar se li hai portati a casa tra tutti i personaggi che hai incontrato prima citavi ovviamente il potere degli sportivi però c'è qualche personaggio clamoroso che hai incontrato che ti è rimasto a parte vale ieri ok Roger Federer a gennaio con cui sono stato a cena perché Francesco Carrozzini con cui stavo girando aveva mi ha invitato a una tavolata veramente impegnativa a cena era lui seduto qui poi c'era Buzz Lurman la moglie di Buzz Lurman Anna Wintour io la moglie di Federer e Federer questa era la tavolata ed è stato bellissimo perché succede questa cosa bellissima che le persone diventano esseri umani c'è una roba che tu vedi là dici oddio come sarà Roger Federer e uno si è messo a sede e mi ha fatto mille domande sull'occosifredi davvero perché voleva era curioso di sapere come avessimo fatto questa serie e poi a un certo punto Giallo ha iniziato a parlare di tennis a capotavola ed è stato come sta a cena con Maradona cioè parlava di come lui e Nadal e Djokovic si studiano le statistiche di come sanno come battere all'altro di come servire all'altro di come risponderà al servizio all'altro di lui che sa battere così 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 e l'altro invece è una roba e poi è stato bellissimo perché è un uomo che non gioca più a tennis e che proprio c'è una mancanza lo senti lo vedi ma muore io credo che se lui potesse ricominciare tutta la sua carriera dall'inizio lo farebbe domani perché proprio viveti quella roba là gli manca tantissimo ed è stata una roba abbastanza illuminante devo dire beh ci credo poi Federer c'è un'aurea però hai questa percezione dagli americani o comunque da certi personaggi che comunque hanno una propensione anche verso insomma persone che non sono magari non so come dire cioè danno comunque un'opportunità a tutti anche semplicemente di accedere alla loro vita non solo un'opportunità lavorativa c'è una grande differenza secondo me in questo tra gli sportivi e chi fa il nostro lavoro noi ci atteggiamo un po' di più cioè gli attori in generale tendono a l'altro giorno a un certo punto arriva un momento in cui non si sa perché ci svegliamo una mattina e pensavamo di essere importanti ma perché cioè poi in realtà quando quella cosa si smonta io i più grandi attori con cui ho avuto la possibilità di stare seduto a tavola quando ho fatto The Hanging Sun con Carrozzini stavo in scena con Charles Dance e con Peter Müller e quello mi ha detto una cosa di cui ho già parlato ma è sempre bello poi ripeterla che a un certo punto mi ha detto che loccio una volta parlavamo quando ero ragazzo e mi ha dato un consiglio e mi ha detto mi raccomando assicurati di essere sempre la persona meno importante nella stanza cioè e lì dentro c'è tutto capito ed è il motivo per il quale poi si siedono e ti parlano così senza un filtro senza la paura di dover dimostrare chi sono rispetto ad un ideale che tu ti sei fatto e in questo gli sportivi secondo me sono almeno quelli che ho conosciuto io sono un po' più bravi poi ovviamente ci sono attori che questo filtro proprio non ce l'hanno quindi sono bellissimi e sono molto umani altri infaticano un po' perciò un attore che è un tuo riferimento ma guarda io sono stato sempre molto innamorato di Di Caprio mi piace tanto mi piace tanto Leo Di Caprio mi piace la sua carriera mi piace il modo in cui ha fatto le sue scelte se tu adesso vai su IMDB e vedi scrivi Leonardo Di Caprio e vedi finché ha fatto ti spaventi non c'è un film brutto da entrare in questa parte e quella roba lì mi interessa anche se poi è paradossalmente uno che ha un approccio al lavoro che non è proprio similissimo al mio perché è uno molto tecnico cioè uno che si vede che ha un pensiero e che con quel pensiero riesce a risolvere tutto invece per esempio uno al quale magari mi ispiro un po' di più è Bale che è uno anche di metodo ma molto di pancia uno che fa tutti i lavori sul corpo sulla lingua uno che si diverte e quella roba adora è la cosa che mi interessa un po' di più beh la cosa del lavoro sul corpo tu come la applichi nel caso di Stefano Cucchi è forse quello più estremo no? beh sì forse sì forse sì perché poi lì c'era tutta una cosa che riguardava anche la voce il corpo poi lì sai dici ok bisogna dimagrire per fare Stefano però dimagrire quanto? cioè qual è la linea che stabilisci per capire quando riesci a essere credibile o no? quindi poi a un certo punto è successo che la mia nutrizionista Giulia che mi ha salvato che mi segue da sempre a un certo punto ha capito che a me mi era partita proprio la brocca e gli ho detto guarda io ho 50 kg un teceporto cioè pesi 60 kg ne pesavi 82 ma ne hai iniziato quindi direi che basta così però perché? perché ero molto spaventato dall'idea di non restituire un'immagine che fosse credibile da subito e quindi dal non consentire allo spettatore di non preoccuparsi di quello che stesse guardando perché era capito anche se avessi fatto una grandissima performance poi era sì ah questo però non me lo ricorda Stefano invece poi mi ricordo che un giorno a un certo punto iniziava a fare i semi di giuni di giuni eh e a un certo punto un giorno mi sono svegliato mi sono guardato allo specchio e ho fatto ok ci siamo c'è chi ti mo' di sedano tutto e ho detto ok adesso mi sa che ci crediamo cioè io almeno ci credevo ecco e quindi poi quella cosa l'ha reso tutto più organico e in quel caso appunto si dimagrisce in altri casi si fa altra roba per esempio su Delta c'era da fare uno studio sulla lingua rumena che sa bellissima la lingua è incredibile a un certo punto ho detto a Bannucci facciamo tutto il rumeno tutto il rumeno bellissimo e da mischiare con un accento veneto di uno che era stato lì e poi era tornato quindi sporcandolo cercando di amalgamarlo io questa cosa la trovo complicatissima cioè tu la dici con una facilità però credo sia una cosa difficilissima ma guarda la verità è che a un certo punto una cosa diventa difficile soltanto se tu pensi al giudizio che qualcuno potrebbe dare rispetto al modo in cui lo fai se a un certo punto entri nel loop in cui senti io senti vado tanto voglio dire tanto fino a devo fare certo e quindi questo è e allora poi te la godi tutta e la vai ad affinare e devi essere secondo me abbastanza intelligente da chiedere alle persone di dirti quando lo stai a fa male mamma mia quella è fondamentale perché se no tu ti convinci che staffa una cosa bene invece poi porti a casa una cosa sbagliata ma te capita adesso questa cosa perché ormai sei Borghi sei Alessandro Borghi e quindi c'è anche un magari un timore reverenziale a volte nei tuoi confronti ti capita di vedere qualcosa che ti fa passare per buona delle cose che però tu ti rendi conto che sì ogni tanto può succedere in particolare adesso sulla serie di Rocco mi viene da dire una cosa che mi fa sorridere che c'era Luigi che è il mio coach di Abruzzese ok perché dovevamo il coach beh beh anche lì stabilire una cosa e lui mi diceva sempre io vengo e ti dico delle cose ma se tu non vuoi che te le dico io ho fatto ma come mi hai detto magari ti disturbo poi tu fai come te pare dico tu mi devi di tutto non ti preoccupa poi capiamo insieme però è una cosa molto tenera che ricordo insomma è bello è bello perché poi tanto è tutta una cosa che ha a che fare con l'educazione ma infatti a me incuriosisce un'ultima cosa poi prima di salutarti anche se potrebbe con te si potrebbe parlare di un miliardo di cose però le persone che stanno intorno tu hai citato la tua compagna la tua compagna come vive la tua compagna e il tuo lavoro ma sai Irene anche tutti questi momenti che hai citato dall'altra parte è anche a volte complicato è un portento nel senso che in realtà sono molto più io che cerco di stare dietro alla sua di energia che lei alla mia perché è una donna che ha un cervello che lavora veramente tutto il giorno a 360 gradi e quindi ti costringe in continuazione a parlare di cose che non conosci è una roba porto con i social che si sente a disagio quando io chiedo di fare una foto e quindi siamo da due parti diverse ci siamo incontrati al centro e in quel centro è successo qualcosa di molto bello come vi siete incontrati? ci siamo conosciuti mentre io giravo a Londra diavoli ah ok sì per puro caso perché lei viveva lì da tanti anni e quindi però tu lei viveva lì da tanti anni ma sapeva tu chi eri ma nì aveva visto un paio di film infatti è stato bello perché poi a Londra è una città dove ovviamente io non è che sono famoso anche se con diavoli è vero no io avevo la gente tipo a Canary Wharf che mi faceva Massimo Ruggiero perché tutti quelli fanno finanza era diventato tipo e poi cioè come tutti sappiamo tutta l'industria di ristorazione londinista tutta italiana e io per strada stavo tranquillo e poi entravo nei ristoranti e c'era tutta perché poi quelli vedono tutti solo Netflix capito quindi è di facile accesso e mi ricordo la prima volta che ho fatto molto ridere andavo a mangiare in un ristorante di sushi che è un po' il nostro posto così ricorrente del cuore e io sono entrato e ho fatto salve salve e un ragazzo mi ha fatto maestro la stavamo aspettando e il rene mi ha fatto non ho capito scusa maestro anche troppo però è stato molto divertente beh perché poi lì tu sei anche diventato un sex symbol quindi anche tante donne fanno battute cose eccetera lei è gelosa ma sai e lì è sempre complicato poi perché lì si ha a che fare non soltanto con la gelosia lì si ha a che fare con l'essere fuori luogo delle persone ok certo quindi noi riusciamo a raggiungere dei picchi di fuori luogo veramente alti certe volte e in situazioni che imbarazzano anche me perché se un ragazzo o una ragazza mi vogliono dire che sono innamorati di me per me lo possono fare io sono felice e li abbraccio quando lo fanno non curandosi di una situazione di un contesto allora lì diventa maleducazione diventa una cosa che mette tutti in imbarazzo e quindi è sempre comunque difficile da gestire a prescindere anche se sto da solo e mi dice una roba strana perché? ma che si fa? quindi proprio di persona si si cazzo c'è capitato che proprio faccia a faccia ti dicessero robe pesanti si si però ma sai io poi sono uno di bocca buona cioè sono romano no no figurati mi faccio una risata però è proprio quella linea che sfocia nel fuori luogo si si diventa strano però vabbè tanto fa parte del gioco quindi si divertiamo pure lì abbiamo iniziato parlando di sogni sostanzialmente anche a differenza di uno sportivo dove a me stupisce sempre questa roba cioè stupisce colpisce che ovviamente uno sportivo ha il culmine della carriera intorno ai 30 anni poi dopo inizia magari a scendere eccetera invece un attore una carriera come quella di un attore cacchio deve ancora probabilmente sfociare la vedi anche tu così che altri sogni hai davanti ma allora sicuramente sì c'è un processo che può durare tanto che si può anche a un certo punto interrompere per poi ricominciare io la storia di Daniel Delewis che va a fare il calzolaio a Firenze è una roba che non so una storia più bella di lui che fa le scarpe a Firenze ma sogni sai devo essere sincero io sto in un momento della mia vita in cui c'ho veramente molto di più quello che che avevo messo nel cassetto dei sogni tanto tempo fa quindi direi chiederne tutto che arriva quello che arriva è bello chiederne altri sarebbe una cosa stai spaccando davvero e allora sto qui e prendo le cose che arrivano cerco di di stare attento a raccontare le storie che mi interessano da spettatore cioè quello che vorrei questo è un aspetto tu prima hai citato Di Capri e hai parlato delle scelte perché mi sembra di capire che sia una cosa a cui fai caso e a cui tieni molto anche tu nel tuo percorso sì e le cose qual è la prima cosa che ti fa dire sì io questo progetto lo faccio ma guarda è proprio la sceneggiatura nel senso per esempio quando noi abbiamo fatto Cookie cioè il film era un film che era partito come un film indipendente come un film di Netflix fatto con pochi soldi con un cast che vediamo chi c'era girato in cinque settimane con un regista che era la sua opera prima cioè c'erano tutta una serie di cose ma io ho letto la sceneggiatura ho detto questo film lo dobbiamo fare per forza cioè sono le storie le storie che ci sono da raccontare quanta roba si può mettere dentro quella storia quanto si può andare a divertirsi da un punto di vista artistico in quella roba andando ad esplorare cose che non conosciamo quindi è quella roba lì e adesso ci sono un sacco di ragazzi che sono bravi tanti a scrivere a dirigere tanti registi bravissimi c'è una nuova ondata di ragazzi che poi purtroppo in Italia non si può dire giovani perché c'è stata gente che fa l'opera prima a cinquant'anni qui capite dicono no sei una nuova leva del cinema italiano sì ho 65 anni però a me ancora fino a tre anni fa mi dicevano tu che sei uno degli esordienti della grande esergeria hai 40 anni però è vero ti capisco ecco la roba è un po' così però ecco si segue un flusso si cerca che quello è molto difficile di non far rimanere male nessuno quello è difficilissimo perché poi magari ti arrivano tre cose a qualcuno devi dire di no perché devi fare l'altra e non riesci a incastrarle e faccio pure un appello scusate se ho detto di no a qualcuno che ci è rimasto male ma cerco di barcamenarmi sai quelle cose che escono adesso dopo tanti anni tipo in Forrest Gump invece di Tomex ci sarebbe dovuto essere Harrison Ford ma Harrison Ford quel giorno non aveva letto la mail nel tuo caso speriamo invece che ci sia ovviamente sempre nelle cose giuste io ti ringrazio per la tua storia per le cose che hai raccontato è stata veramente una chiacchierata preziosissima per la vita in generale al di là dei temi grazie davvero a presto grazie per essere passato grazie a te